Buona cena ragazzi, buona cena, buona serata e buonanotte, come come, alla prossima. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e buona colazione, il caffè è pronto, una, due e tre, Lucannolicca è pure pronto, guardate che bello ragazzi, guardate, come, come, la colazione è a me, una, due e tre, buona colazione. Vi auguro un buon martedì a tutti, una felice colazione, come come, ci vediamo alla prossima, buona colazione a tutti, ciao. Andiamo a fare le papole, vedete, se non fanno le papole, gli scocci di cannola non sono meno buoni, le papole andiamo a fare, guardate che bello, la papoletta, la verità è la papoletta. Viene la voglia di fare le cannola, no? Bene, guardate qua ragazzi, adesso li andiamo a condire, facciamo le cannola siciliane, ci vediamo per la prova dell'assaggio, ciao. Com'è, com'è? Buon pranzo a tutti ragazzi, pasticetta oggi, guardate che bellezza, patatelle e tutte cose. Adesso facciamo la prova dell'assaggio, brutticello internazionale. La patata siciliane, la carota siciliane, la patata siciliane, la carota siciliane. Un burro piccolo, buon pranzo a tutti, com'è, com'è, guardate la mucca. Oggi mettiamo un bicchiere di vino, alla salute, un bel frizzante, un guttugno frizzantino, rotto, smeraltino, me lo bevo, all'untocchino. Sì, insieme, allora salute, com'è, 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 internazionale. Ciao. Fini la primavera, di me non le soggiore, gioia del romegore, senza idea come fare. Sì, mare da un rosa, sarebbe più finita. E io, che il sogno bello, me lo bevo, a te mare dare. E io, il sogno bello, me lo bevo, a te mare dare. Fini la primavera, di me non le soggiore, gioia del romegore, un bacio di mannattia. Sarebbe più finita, io, che il sogno bello, me lo bevo, a te mare dare. Ciao, ciao mare, stasera va a mangiare, non lo so, non lo so. Cosa c'è da mangiare stasera? Ah, non lo so. E adesso vediamo, qualcosa dobbiamo inventarti. Ragazzi, buona cena a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.